Per me è tradizionato, senza tempo, per me è un po' come il marmo, cioè è bellissimo, è semplice, sta bene in qualsiasi posto, è duraturo, è lì, però io non la faccio molto, per me non è molto giovane, è un po' da uomo, io la faccio che è l'uomo della donna, comunque va.